Ed è Serie A, ed è Serie A, e tanto già lo so che l'anno prossimo gioco all'Olimpico, mamma mia che partita, che partita ragazzi, io come ben sapete simpatizzo il Monza però è stata veramente una partita spettacolare, prima di iniziare con l'analisi voglio fare i complimenti a entrambe le squadre e anche assolutamente al Pisa perché è stata una finale di playoff spettacolare, una finale migliore, più bella, più spettacolare, non ci poteva essere, veramente non ci poteva essere due squadre che si danno battaglia dal primo all'ultimo minuto, 120 minuti di partita a ritmi altissimi, a ritmi infuocati, continuano a correre, contrasti, cambi di fronte, veramente una partita spettacolare, poi anche a livello di gol fantastica, sette gol Sette gol ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Fenomenale, partita fenomenale, mamma mia, un applauso comunque a entrambe le squadre, complimenti anche al Pisa, rinnovo appunto i complimenti al Pisa, soprattutto anche ai tifosi perché hanno veramente un bellissimo pubblico, una cornice di pubblico spettacolare, anche molto attiva, che sostiene la squadra alla grande e comunque partendo con l'analisi della partita, partiamo malissimo, un approccio vergognoso, vergognoso voi ditemi se in una finale di playoff si può prendere gol dopo 45 secondi, dopo 45 secondi inizio partita è l'ottavo minuto 2 a 0, questo è veramente scandaloso, però anche adesso non ho voglia di farlo sfogo come fate a prendere gol subito all'inizio, perché ragazzi siamo in Serie A, siamo in Serie A, mamma mia, mamma mia comunque Pisa sì che inizia molto meglio, poi noi man mano alziamo un po' il baricentro, riusciamo a uscire da sto pressing asfissiante del Pisa che ci stava proprio chiudendo dietro e riusciamo a trovare il 2 a 1 poco dopo, alla fine circa verso il ventesimo minuto, molto molto importante, bella giocata qui di Dani Mota e poi Macin fa un gol spettacolare, secondo tempo facciamo il 2 a 2, quindi partita che sembrava ormai in cassaforte e invece no, al novantesimo eravamo a 5 minuti dalla Serie A e niente, il Pisa fa gol tra l'altro bellissimo gol di prima, di controbalzo, tira una mina a fil di palo e niente, supplementarli lì veramente è stata una delusione pazzesca, immagino i giocatori quanto fossero delusi e invece poi supplementarli, riusciamo ad avere quella marcia in più con gol di marrone di testa e gol di Gittker, anche grazie a un errore difensivo del Pisa, ma riusciamo ad avere quella marcia in più che ci permette di salire in Serie A, mamma mia, io veramente faccio un applauso e complimenti a tutti i giocatori del Monza, tranne a Di Gregorio, il portiere più scarso della storia il portiere più scarso della storia del calcio di Gregorio, veramente mamma mia, mamma mia, però spettacolare, partita spettacolare, mamma mia tante emozioni, tanta tanta roba, quindi Monza in Serie A, sicuramente seguiranno video anche dell'analisi però mamma mia, che impresa, che impresa, grandissimo Monza, grande Monza e rinnovo comunque i miei complimenti anche al Pisa, lasciatemi un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo nel prossimo video, bella!